Salve a tutti amici di Softgunner, Retuber e quant'altro oggi sono qui con un unboxing come leggerete da titolo questo è un pacco un po' particolare non ho comprato su nessun sito internet un pacco che proviene da Facebook quindi è la prima volta che compro su Facebook quindi è un po' una scommessa questo unboxing già che è arrivato il pacco sono molto contento vuol dire che ci sono comunque delle persone abbastanza affidabili su Facebook dobbiamo vedere il contenuto il pacco è stato spedito ieri lunedì 27 e stranamente è stato spedito con pasta prioritaria e stranamente oggi che è martedì 28 è arrivato ci ha messo soltanto un giorno e sono contentissimo di questo e andiamo subito a tapire il pacco e a controllare il contenuto diciamo è un unboxing non troppo complicato non troppo esagerato allora abbiamo due tasche singole portacaricatori mag pouch diceva che contenevano ogni tasca conteneva due caricatori adesso andiamo a fare la prova però penso che penso che abbia ragione si 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 ci vanno due caricatori eccoli mi potete ruotare perfetto sono due tasche della Pantac 1000D cordura 1000D sono veramente ottime bene bene complimenti complimenti al ragazzo che me l'ha venduto abbiamo un'altra tasca portacaricatori però doppia quindi due caricatori per tasca adesso andiamo sempre a provare si nota da subito si nota da subito che ci vanno due caricatori eccoli qui quindi avremo una portata di 8 caricatori due qui due qui due qui e due qui e due qui e infine una utility medical pouch in tasca porta utility con elastici per contenere garze non lo so qualcosa infatti ci metterò delle garze quindi ragazzi questo è un questo pacco l'ho comprato da Facebook un po' scettico perché era la prima volta che compravo però diciamo parlando con il ragazzo sembrava una persona abbastanza seria come l'avevo preso bellissima questa tasca mi piace tantissimo e quindi come ripeto è una persona abbastanza seria e mi sono fidato ho pagato diciamo tutto quanto 39 euro comprese le spedizioni quindi a livello di prezzo penso che mi ha fatto un grandissimo favore perché stiamo parlando della Pantac una grande marca cioè una marca che a me piace fa delle cose fatte molto bene Cordura 1000D quindi 39 euro spedizioni non è stato un affare gli oggetti sono nuovi cioè sono usati però sono come nuovi e quindi provvederò poi a lasciare un feed positivo sul mercatino e adesso andremo a montare queste tasche sul mio tattico vi farò vedere più o meno come rimangono come ci stanno a tra poco bene ragazzi come vedete ho montato le tasche sul mio tattico il tattico sempre della Pantac non l'ho recensito sul mio canale non so perché non chiedetemelo comunque poi farò lo farò qualcosa del genere bene quindi ecco le tasche sono queste montate tasca doppia tasca singola tasca singola e medical pouch questa tasca è stupenda lo so mi sono innombrato subito di questa tasca è bellissima comunque tutto Pantac come ripeto e l'ho sostituita con quelle che avevo prima che sono queste che si erano buone però la colorazione non c'era un po' schifo e quindi l'ho sostituita con queste adesso il tattico è quasi tutto Tanno mi rimane da sostituire soltanto il il camel bag si è rimasto così poi vabbè non è importantissimo questo poi provvederò a sostituirlo con uno completamente Tanno e niente ragazzi questo è il tattico così noi ci vediamo mi raccomando ragazzi lasciate un bel mi piace fatelo ora adesso subito in questo momento fatelo dai 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 bravissimo bene noi ci vediamo con un prossimo video per quando lasciate un bel mi piace lasciate un bel commento e iscrivetevi ciao a tutti ragazzi mi sono dimenticato di dirvi una cosa se volete queste tasche queste qui porta caricatori quindi 8 caricatori così con attacco molle più una tasca porta utility sono usate, le usate io sono della tactical equipment se le volete le mando a 35 euro spedite 35 euro spedite